Il programma delle M5S porta un disavanzo di 63 miliardi Questo è il secondo di una serie di articoli a cura del professor Roberto Perotti che quantificano i costi dei programmi delle maggiori forze politiche, il primo è stato dedicato al PD Maggiori dettagli su ogni voce appaiono nella versione più ampia di questo articolo Il costo totale del programma M5S, secondo lo stesso movimento, è di 78,5 miliardi, il 4,5 per cento del PIL, di cui più di tre quarti di maggiori spese Secondo le mie stime, il costo totale è di 108 miliardi A queste cifre bisogna aggiungere svariati ma imprecisati miliardi da almeno tre voci non quantificate nel programma delle M5S La somma delle coperture è di 79 miliardi secondo le M5S, 45 miliardi secondo le mie stime Sottraendo le coperture dal totale dei costi, si ottiene un avanzo di 0,5 miliardi secondo le M5S, un disavanzo 63 miliardi, il 3,5 per cento del PIL, secondo le mie stime Di seguito una breve spiegazione delle maggiori proposte